Oggi cominciamo dall'inizio. Che cos'è l'analisi FEM? Allora, l'analisi FEM è una tecnica di simulazione computerizzata che permette all'interno di un ambiente virtuale la simulazione o la modellazione di un qualsiasi sistema ingegneristico e permette appunto di studiare lo stesso quando questo si trova a lavorare sotto determinate condizioni che sono tendenzialmente le sue condizioni operative. Quindi parlando di ambiente virtuale parliamo di computer e parliamo di software? Sì, parliamo di software sicuramente ma c'è da dire anche che l'analisi FEM è importante tanto quanto l'operatore cioè la persona che gestisce l'intero processo. Parliamo quindi dell'analista FEM. Il ruolo è fondamentale perché il compito appunto importante, il ruolo principale dell'analista è quello di tradurre in ambiente virtuale tutto ciò che è reale di fatto. E questa traduzione com'è che si attua? Allora, diciamo che ci sono numerosi, diversi step. Il primo è sicuramente l'importazione del modello appunto all'interno dell'ambiente virtuale e questo avviene tendenzialmente attraverso l'utilizzo di un CAD. Esiste poi un secondo processo che è quello di meshing e che permette la suddivisione del sistema in tanti piccoli elementi per ognuno dei quali poi verrà calcolato il risultato. E il risultato finale in termini di sforzi, deformazioni o qualsiasi altra grandezza si voglia studiare sarà di fatto la somma dei risultati dei singoli elementini. E' importante poi saper modellare l'ambiente circostante, l'ambiente all'interno del quale il nostro sistema si trova a funzionare. E infine, ma non per questo meno importante, viene l'interpretazione dei risultati. Ed è qui probabilmente che il ruolo dell'analista diventa fondamentale. Diciamo che ad oggi i software moderni permettono di seguire, di avere delle linee guida e quindi il processo è molto guidato con dell'interfaccia user-friendly che sicuramente guidano l'operatore verso il risultato. Quindi se andiamo a investire in un buon software user-friendly, come dici tu, possiamo spalancare le porte di un nuovo orizzonte progettuale per un'azienda, no? Beh, diciamo che non basta investire solo in materie prime di qualità, mettiamola così. Il ruolo dell'analista FEM è ancora fondamentale perché tutti gli step di cui abbiamo parlato è vero che al giorno d'oggi sono guidati, però è importante appunto saper interpretare, come ho già detto prima, non solo i risultati finali, ma ancora prima la modellazione del problema. Faccio un paio di esempi. Da una parte, per esempio, saremmo portati a pensare che aumentare il numero di elementi porti come diretta conseguenza il miglioramento del risultato. Ecco, questo non è sempre vero. Di certo c'è soltanto l'allungamento dei tempi di calcolo, quindi la pesantezza del calcolo. Questo perché, ecco, non è tanto il numero di elementi importante, quanto come questi sono distribuiti in funzione della fisica del sistema. Ma, ad esempio, un altro esempio potrebbe essere la modellazione appunto del sistema stesso. Come detto prima, l'analisi FEM permette di modellare il sistema nelle sue condizioni operative, andando quindi a simulare tutte le grandezze fisiche che, come dire, sono presenti appunto nel sistema reale. Ma questo non è sempre positivo, perché in alcuni casi andremo ad esempio ad allungare inutilmente i tempi di calcolo quando in realtà alcune grandezze fisiche non hanno alcuna influenza sul risultato che si vuole ottenere. Ecco che di fronte al giorno d'oggi a un procedimento apparentemente semplice e costantemente guidato, il ruolo dell'analista FEM diventa fondamentale.